Il primo è andato benissimo, il secondo è iniziata la grande rimonta dell'avversario. Sì, comunque sono andato 5-4 sopra, lui è servito bene, poi sul suo 5 ancora di nuovo è servito bene, poi il tie break alla fine è decido un punto, sul 4 pari ho servito io mano una seconda, poi un dritto facile e sbagliato, poi lo è servito bene, ho chiuso il set, poi il terzo è beniziato pari, poi lui ha preso subito un break, io sono crollato un po' fisicamente, bravo lui ha alzato il livello, io sono calato un poco, però niente, bravo lui. Ci rifaremo la prossima volta. Certo, ci rifaremo la prossima volta, grazie. Grazie.